Signori siamo qui agli sgoccioli della stagione 23 con le missioni completate, abbiamo fatto l'opening di Stardrop e Angelo arriva fra 3 minuti e 46, 45, 44, 43, un minuto, un secondo. Ragazzi qui arriva Angelo, Dio si è buggato, non arriva, non arriva, non arriva, oh bello, non l'avevo mai vista sta schermata perché il brawler viene sempre sbloccato in automatico a causa dei crediti del pass, ragazzi. Ok, time skip, ho fatto colazione ed è cambiato lo sfondo, cioè, vabbè, però non prenderei direttamente quella lì ma, guarda che figo, ok, poi vi spiego un'altra cosa che ho in mente riguardo la fama. Prendiamo questi 100 e man mano lo sbloccheremo, imbrolleremo quindi 9,25, non arriviamo manca al livello 20, tipo, cioè, vabbè, infatti questi punti secondo me sono un po' troppi, è un po' over il limite. Ragazzi gli ultimi 25, let's go, let's go, e mi sono appena reso conto che non funziona l'audio e voi non lo sentite, molto bene, troppo tardi. Angelo, Angelo la zanzara occupito della parola degli innamorati, che è svuolata in giro per i canali, ammalia col suo fascino esistibile, qualunque coppia di fidanzatini, invitata, leggi costretta dalle punture, non ho finito di leggere. Molto bene, ragazzi, Angelo sbloccato e che fai? Non te lo maxi. E' ovvio che te lo maxi, cioè, è ovvio che tu te lo vai a maxare, andiamo nella pagina dei brawler, ok, Angelo. Ragazzi, pronti? Pronti? Livello 2, livello 3, livello 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11. Ragazzi, livello 11 in tempo record, appena arrivato il brawler, subito, immediatamente maxato. E vediamo un po' quali gadget e star power. No, ma in realtà potrei sciopparle anche entrambi. Cioè, in effetti, che me frega a me? Li scioppo entrambi? Li scioppo entrambi? Cosa me ne frega? Tanto ce l'ho l'oro ora. C'ho tantissimo oro, quindi sì, prima, idroflusso. Quando Angelo è sull'acqua, la velocità di movimento aumenta del 25%, interessante. Omeopatia. Rimanendo nella pozza tossica della super, Angelo si cura di 600 punti salute al secondo, interessante anche questa. Perforatore, l'attacco successivo di mira stabile trafligge i nemici e gli ostacoli, interessante. E Angelo vola per un secondo e sottrae 660 punti salute ai nemici che si trovano nelle sue vicinanze quando spicca il volo. Prendiamo anche un gear. Quello del gadget serve sempre, secondo me, quindi io lo prendo. Perché un gadget in più, ragazzi, fa la differenza. E poi quello dello scudo, secondo me. Sì, 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 molto classico. Si è buggato per un attimo, ha flashato tutto. Ragazzi, siamo qui con Angelo. Guardate che figo che è. Lo proveremo, ovviamente, ma non prima del prossimo video che sarà sicuramente quello di shop del prossimo pass stagione 24. E niente, ragazzi, ci vediamo, come al solito, alla prossima con un prossimo video. Mi raccomando, ragazzi, continuate a seguire il canale e ci vediamo alla prossima. Ciao.